Carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti o ben ritrovati o bentornati sulle frequenze della nostra cara radio per una nuova puntata del ciclo di Catechesi di Maria Nunquanzatis, giunto alla 26esima puntata e precisamente questa è la decima dedicata al secondo tema che stiamo affrontando in questa rubrica che è la tematica dedicata appunto a Maria Santissima, corredentrice, mediatrice e avvocata dell'umanità, siamo nella seconda sezione, quindi quella dedicata alla mediazione mariana e questa è la sesta puntata che dedichiamo al tema molto bello oltre che delicato della mediazione mariana. Questa puntata cade nella felice coincidenza o meglio dioincidenza certamente non casuale insomma della vigilia di Natale perché se ci facciamo attenzione è proprio la festa di Natale che celebra per Antonomasia la mediazione mariana, Gesù nasce nel mondo per mezzo di Maria e da Maria, no? Et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine tomu factus est. Ecco come recentemente ci ha ricordato il Santo Padre Francesco nella liturgia di Natale e nella liturgia dell'Annunciazione a queste parole ci si prostra in adorazione ma in entrambi gli episodi vediamo che di opera sia l'incarnazione che la nascita attraverso Maria quindi c'è questo canale l'abbiamo visto nelle splendide considerazioni di San Bernardo scelto liberamente da Dio abbiamo già visto tante volte non indispensabile ma da lui fortemente voluto e quindi una volta che è diventato oggetto della sua elezione libera e volontaria come tutte le cose fatte dall'altissimo senza nessuna nissima costrizione diventa però necessariamente significativo anche per noi abbiamo approfondito nelle puntate precedenti la posizione del Magistero della Chiesa e alcuni importanti scrittori ecclesiastici autori ecclesiastici tra cui due grandi santi entrambi mariani uno un po' più teologo e un altro un po' più se vogliamo mistico che sono San Luigi Maria Monfort e San Bernardo del Chiaravalle ci riservavamo diverse volte di dedicare almeno una puntata adesso non so se riuscirò a sintetizzare la bellezza di ciò di cui stiamo parlando con una sola puntata ma quantomeno una puntata a vedere come la mediazione mariana è celebrata dalla liturgia e ho già detto insomma che mi avviso uno dei frutti più belli della riforma della santa messa è stata la composizione di questo magnifico messale mariano con tutte quante le messe della beata e sempre vergine maria ci sono 46 messe in onore della madonna quasi una quasi una per settimana dell'anno insomma no e tra l'altro distinte attraverso i tempi liturgici tempo di avvento tempo di natale tempo di guaresima tempo di pasqua e tempo ordinario a sua volta il tempo ordinario distinti distinto in tre sezioni la prima sezione di undici formulari che celebra la memoria della madre di dio sottotitoli prevalentemente biblici e che esprimono il nesso tra maria e la chiesa la seconda sezione e la prima messa della seconda sezione è proprio quella dedicata a maria vergine madre mediatrice di grazia a nove formulari che venerano la memoria della madre del signore sotto i titoli attenzione che esprimono la sua cooperazione nel promuovere la vita spirituale dei fedeli quindi la prima madre mediatrice di grazia quindi capiamo già la mente la mente della chiesa no questa seconda sezione fa proprio vedere come la madonna coopera nella nostra santificazione promuovere la nostra vita spirituale cioè farci santi e farci camminare verso la santità e la prima messa è appunto la cooperazione maria vergine mediatrice di grazia poi abbiamo ancora un'altra sezione che era terza dove abbiamo otto formulari questa volta per la celebrazione di maria santissima e sottotitoli che manifestano la sua misericordiosa intercessione a favore dei fedeli e e quindi per esempio maria vergine regina e e madre di misericordia è la prima e poi tutte le altre veramente è un piccolo capolavoro non soltanto per le anime diciamo così devote alla madonna no ma questo messale anche lo scopo di far conoscere bene chi è la madonna e di di promuoverne anche un culto autentico solido fondato e quindi motivato ecco sapete che quando nell'introduzione di questo ciclo nuovo di catechesi e come dire presentavo l'intenzione di dedicare uno spazio alla questa messa in onore della madonna che è assolutamente imprescindibile dovendo trattare di questo tema dicevo attenzione perché c'è un antico adagio che dice che la legge della preghiera quindi l'ex orandi ossia la liturgia della chiesa stabilisce la legge della fede cioè quando la chiesa fa entrare una cosa nella liturgia ecco perché la liturgia è un mondo assolutamente divino e a cui dobbiamo accostarci sempre con estrema riverenza d'accordo perché cioè è un atto pubblico di culto ufficiale della chiesa quindi ecco perché va assolutamente salvaguardata rispettata non va violentata va ben celebrata sia da parte del celebrante che da parte dei partecipanti perché è una dimensione bilaterale insomma no quindi non si può assolutamente e prescindere da questo quindi la liturgia è un ambiente sacro e normativo quindi della vita della chiesa a cui fare sicuro riferimento dette tutte queste cose passiamo a presentare questa quindi capiamo l'importanza molto decisiva se vogliamo no di questa di questa sezione allora ogni messa in onore della madonna presenta numero uno un formulario proprio dove ci sono le cosiddette parti ecologiche quindi della liturgia proprie di quella singola messa quali sono sono l'antifona d'ingresso l'orazione colletta l'orazione sulle offerte il prefazio l'antifona alla comunione e l'orazione dopo la comunione in tutte queste preghiere chiaramente c'è come dire condensate adesso le vedremo proprio espresso il contenuto che si vuole tramandare con questa e celebrazione dopo questo tutta questa parte è preceduta da un'introduzione che spiega appunto l'origine il significato di quella certa messa e poi ci sono delle letture particolari scelte per quella determinata circostanza e per quella determinata messa che chiaramente sono significative quindi faremo noi adesso non un passaggio fondamentale prima leggeremo l'introduzione poi vedremo le letture e poi vedremo i testi eucologici andandoli a vedere bene andiamo dunque a vedere l'introduzione la messa numero 30 maria vergine madre mediatrice di grazia nel 1921 benedetto quindicesimo morto nel 1922 su richiesta del cardinal desiderio giuseppe mercier il grande cardinal mercier morto nel 1926 concesse a tutto il belgio l'ufficio e la messa della beata vergine maria mediatrice di tutte le grazie da celebrarsi il 31 maggio la sede apostolica concesse poi a numerose altre diocesi e congregazioni religiose dietro loro richiesta il medesimo ufficio e la messa perciò ne seguì che la memoria della beata vergine maria mediatrice divenne quasi generale il concilio vaticano secondo nel 1964 ha spiegato ampiamente la funzione della beata vergine maria nel mistero di cristo e della chiesa ed ha accuratamente esposto il senso e la forza della mediazione della beata vergine cita l'uomo in gentio numero 60 adesso che noi conosciamo molto bene perché l'abbiamo visto appunto nella prima delle puntate dedicate alla mediazione mariana la funzione materna di maria verso gli uomini in nessun modo scuro diminuisce l'unica mediazione di cristo ma ne mostra l'efficacia poiché ogni salutare influsso della beata vergine verso gli uomini non nasce da vera necessità ma dal beneplacito di dio e sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di cristo si fonda sulla mediazione di lui da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia non impedisce minimamente l'unione immediata dei credenti con cristo anzi la facilita leggo e basta perché ecco perché abbiamo già ampiamente approfondito tutte quante queste cose per cui basta ascoltare le catechesi precedenti per vedere nel 1971 la sacra congregazione per il culto divino ha approvato la messa sotto il titolo della beata vergine maria madre e mediatrice di grazia questa messa aderendo fedelmente alla dottrina del concilio vaticano secondo commemora contemporaneamente la funzione materna madre e il compito di mediatrice della beata vergine si chiama maria vergine madre e mediatrice di grazia appunto perché l'essere mediatrice di grazia come sappiamo è strettamente connesso alla maternità di maria la madonna mediatrice di grazia perché perché è per divina volontà ad un tempo madre di cristo e quindi madre di tutte le membra del corpo mistico di cristo che siamo noi che siamo i fedeli madre nell'ordine della grazia nel senso che la sua azione coopera alla vita della grazia in noi come dio è diventato uomo per mezzo di maria così noi diventiamo più divini da uomini che siamo per mezzo di maria ai nostri giorni questa messa viene celebrata in molti luoghi l'otto maggio il giorno della madonna di pompei e qui viene proposta con alcune variazioni e con l'aggiunta del prefazio il formulario come si conviene celebra anzitutto Cristo vero Dio e vero uomo unico mediatore sempre vivo intercedere in nostro favore prefazio tratti con citazione della prima lettera a Timoteo capitolo 2 versetto 5 ebrei 7 e 25 e il medesimo tema è sviluppato dall'orazione sulle offerte e da quella dopo la comunione ma onora anche la beata Vergine Maria madre mediatrice di grazia poiché il padre nel mirabile disegno del suo amore l'ha costituita madre collaboratrice del Redentore attenzione madre collaboratrice del Redentore la Vergine Maria è madre di grazia poiché ha portato nel suo grembo purissimo Cristo vero Dio e vero uomo e ci ha dato lo stesso autore della grazia la Vergine Maria è mediatrice di grazia poiché è stata socia di Cristo nel procurarci la grazia più grande la redenzione cioè e la salvezza la vita divina e la gloria che non ha fine passaggio fondamentale abbiamo visto che la mediazione mariana è conseguenza del suo essere corredentrice e qui viene affermato esplicitamente in questo prenotanda alla Santa Messa cioè è mediatrice di grazia poiché è stata socia di Cristo nel procurarci la grazia più grande la redenzione cioè la salvezza quindi l'essere mediatrice di Maria Santissima scaturisce come logica conseguenza dall'essere corredentrice nel formulario la mediazione della Beata Vergine Maria viene giustamente interpretata come provvidenza d'amore dal prefazio di intercessione e di perdono di protezione e di grazia di riconciliazione e di pace guardate che se posso esprimere nella mia opinione personale i prefazzi di queste messe sono qualche cosa di spettacolare io sinceramente quando li recito stento a volte a non commuovermi perché sono veramente bellissimi questo per quanto riguarda l'introduzione che abbiamo approfondito adesso andiamo a vedere le letture che sono state scelte e le letture sono molto significative le letture sono state scelte uno quella tratta dal libro del profeta di Esther noi sappiamo la storia di Esther non del profeta Esther scusate dal libro di Esther che non è la profetessa insomma la santa donna dell'Antico Testamento allora la storia di Esther penso che la conosciamo Esther questa donna ebrea che si ritrova nella corte del re Assuero unica ebrea quando il generale luogotenente di Assuero voleva distruggere per odio la razza giudaica che succede? Mardokeo che era lo zio di Esther si rivolge a questa ragazza e dice guarda attenta che può darsi che il nostro signore ti ha messo in quella condizione proprio in vista di questo grande calamità e cerca di farci qualcosa solo che c'era un problema che le donne le mogli del re non potevano entrare al suo cospetto se non quando erano chiamate altrimenti rischiavano la morte Esther cosa fa? rischia la morte si mette a pregare a digiunare e dopo aver pregato a digiunare cerca di andare dal re Assuero per persuaderlo con la sua intercessione a risparmiare il suo popolo e per denunciare le malefatte di Aman di Aman la Gagita cosa succede? e qui la prima lettura narra già la fine che il re stende lo scettro verso Esther quindi la fa entrare per parlare con lui Esther le rivela tutto il piano di questo tempio uomo e il re ha dirato anziché far impiccare Mardokeo sul palo che Aman aveva preparato ci fa impiccare lui quindi è molto significativa questa cosa qui perché capite c'è anche qui chiaramente una interpretazione i padri sarebbero andati a nozze allegorica quindi Aman chi è Aman è figura del diavolo che ci tende insidie per distruggerci questo re è una tipologia quindi non è che Dio assomiglia al re Assuero però rappresenterebbe il potere quindi la divina potenza e Esther rappresenta appunto quella che intercede e Mardokeo è immagine di coloro che si rivolgono a Maria per andare a cercare grazie presso il re ecco il senso di questa prima lettura e la Madonna viene sempre accolta la divina presenza e viene sempre esaudita nelle sue sante richieste e il diavolo quando si mette a lavorare con coloro che dicono alla Madonna può anche sembrare giungere come in questo caso ci mancava un soffio a cantare vittoria ma poi qualcuna gli schiaccia la testa e quella qualcuna si chiama Maria Santissima ecco dopo la prima lettura segue il Salmo responsoriale anche il Salmo responsoriale molto importante figlioli miei cari nelle sante messe ne dobbiamo fare molta attenzione perché ripeto nella liturgia della Chiesa cioè chi compone queste cose le commissioni che fanno queste cose che poi le approvano cioè è pensato fino ai minimi particolari capite siamo noi che non riusciamo a comprendere noi con i testi sacri succede un po' la stessa cosa di quando di opera di opera con perfezione assoluta in tutto quello che fa siamo noi uomini che non capiamo quello che lui fa ecco qui c'è la stessa cosa il Salmo 66 che è un Salmo che di invocazione da parte del Signore della sua benedizione Dio abbia pietà di noi ci benedica su di noi faccia splendere il suo volto perché si conosca sulla terra la tua via fra tutte le genti e la tua salvezza e poi insieme al tema della invocazione della benedizione in cui il Salmo comincia e finisce perché finisce con ci benedica Dio il nostro Dio ci benedica Dio la parte centrale la lode e l'esultanza ti lodino i popoli Dio ti lodino i popoli tutti esultino le genti e si ralleghino ti lodino i popoli Dio ti lodino i popoli tutti quindi che significa la mededizione della Madonna è finalizzata a farci ottenere benedizioni da parte del Signore benedizioni ossia benefici e gli effetti delle benedizioni del Signore cosa sono? il prorompere in cantici di gioia di esultanza e di note grazie all'azione all'intervento di Maria Santissima interessante anche l'antifono al Vangelo perché anche i versetti delle antifone al Vangelo anche qui non diamo a messa e magari neanche li ascoltiamo magari cantiamo l'alleluia poi c'è il lettore che legge il versetto e noi magari stiamo un po' con la testa per aria può succedere a causa della nostra tebolezza ma l'antifono al Vangelo dice sempre trasmette sempre dei messaggi forti qui cosa viene detto te felice o Santa Vergine Maria madre di grazia e regina di misericordia da te è sorto il Cristo nostro mediatore e salvatore tu sei madre nostra nell'ordine della grazia perché sei madre di Cristo mediatore e salvatore e la sua maternità di grazia è anche un essere regina di misericordia perché la mediazione mariana e qui si vede benissimo nel Vangelo che segue come canta San Bernardo in quello splendido inno che Dante gli mette in bocca nel Carme trentatresimo del paradiso Vergine madre figlia del tuo figlio dice la tua benignità non pur soccorre a chi domanda ma molte fiate liberamente al dimandare precorre come nel Vangelo che segue le nozze di Cana le nozze di Cana è il Vangelo della mediazione mariana per antonomasia ma l'intervento della Madonna non è nemmeno suscitato dalla previa richiesta degli invitati ma è azionato diciamo così da Maria Santissima sua sponte di sua spontanea iniziativa è lei che guarda e interviene presso il figlio noi sappiamo che c'è un'interpretazione molto profonda questo è certamente un miracolo realmente avvenuto l'acqua è stata cambiata in vino ma qui ci sarebbe da fare una carichesi lunga mezz'ora soltanto su questo Vangelo ma non è il caso l'acqua rappresenta come dire tutto ciò che nella vita c'è di meno bello insomma di inodore di incolore di insapore il vino rappresenta la gioia l'amore la risultanza quindi il senso di questo Vangelo è che la Madonna intercede presso il Signore perché possiamo essere liberati da una vita brutta triste grigia ed avere la felicità ed avere una vita degna di questo nome che poi è la vita cristiana ecco siccome quasi nessuno glielo chiede questo alla Madonna perché non ci pensa non ci pensa a lei a provocare a suscitare a richiedere prima ancora che sia richiesto anche il Signore da parte degli uomini che scendano queste grazie immagine c'è una medaglia miracolosa di Maria come ha voluto apparire a Rudebach molto significativa sotto questo punto di vista quindi vedete che bellissimo bellissima composizione un bellissimo capolavoro ora andiamo a vedere i testi eucologici grazie a Dio stiamo procedendo con una certa speditezza e quindi forse riusciamo le antifone d'ingresso proposte della messa sono due anche l'antifone d'ingresso è importantissima oggi è la vigilia di Natale se uno va un pochino indietro per esempio la famosa terza domenica di Natale che è la domenica non la terza domenica di Natale scusate la terza domenica di Avvento detta anche la domenica della gioia l'antifone è sempre gaudete la prima parola rallegratevi in italiano quindi l'antifone dà proprio il là alla messa è come se fosse appunto un accordatore un diapason su cui poi tutta la liturgia si deve accordare e allora qui ce ne sono due Ave Santa Maria fonte di pietà dal tuo grembo purissimo sgorga la ricchezza di tutte le grazie Cristo vero Dio e vero uomo prima icona Santa Maria la tutta santa fons pietatis quindi lei è la fonte della pietà cioè da lei impariamo la vita interiore che è vita di rapporto intimo con il Signore di cui lei è vera madre avendola avuto nel grembo purissimo e da colui che è stato nel grembo purissimo di Maria sgorga la ricchezza di tutte le grazie di cui questo è sottointeso ma neanche troppo Maria Santissima è tra virgolette ministra amministratrice oppure salve Santa Madre di Dio per te la vita perduta ci è stata ridonata tu dal cielo hai ricevuto il figlio e hai generato al mondo il Salvatore immediatamente abbiamo il tema della maternità di Maria e immediatamente la maternità divina di Maria da cui sgorga come da sede come dire remota ma anche principale la maternità e la mediazione nei nostri confronti d'accordo perché ella è madre mediatrice di grazia perché è madre dell'autore della grazia e mediatrice della sua presenza nel mondo per volontà di Dio poi vediamo le tre preghiere e concludiamo poi con il prefazio allora nella colletta si dice o Dio che non è mirabile il disegno del tuo amore ha voluto che Maria desse alla luce l'autore della grazia e fosse in modo singolare associata all'opera della redenzione per la potenza delle sue preghiere donaci l'abbondanza delle tue grazie e guidaci sul porto della salvezza per le preziose dopo la preghiera della chiesa allora o Dio che nel mirabile il disegno del tuo amore hai voluto quindi si tratta di un mirabile disegno di amore dipendente dalla divina volontà quindi questa funzione mariana è stabilita e voluta dalla divina volontà all'interno di un disegno di amore quindi non c'è nessuna costrizione nessuna indispensabilità nessuna necessità qual è questa volontà uno che Maria disse alla luce era autore della grazia perché sappiamo tutti quanti benissimo che Gesù poteva tranquillamente venire sulla terra trentenne senza entrare nel grembo di Maria senza mortificarsi a fare la vita di un infante che ancora non parla come del resto ha fatto il figlio di Dio fatto come quindi perché nessuna luce è autore della grazia attenzione fosse in modo singolare associata all'opera della redenzione ecco il legame tra la mediazione di grazia e la corredenzione vedete che i testi eucologici e magisteriali l'abbiamo visto della chiesa non usano esplicitamente il termine corredentrice ma esprimono il concetto della corredenzione però quindi non ci vuole tanto secondo me a fare un passo ultimo d'accordo perché è già tutto contenuto nel magistero e nella vita liturgica e nella preghiera della chiesa ancora come la esercita questa mediazione per la potenza delle sue preghiere donaci l'abbondanza delle tue grazie la potenza della preghiera di Maria sapete che qualche santo più di qualche santo nei filoni di spiritualità mariane ha chiamato la Madonna l'onnipotenza supplice mentre Dio è l'onnipotenza per essenza d'accordo è l'onnipotenza in sé perché può fare tutto quello che vuole la Madonna non può fare tutto quello che vuole ma è l'onnipotenza supplice cioè esprime il fatto che tutto può presso il cuore di Dio attraverso la preghiera attraverso la supplica per la potenza delle tue preghiere donaci l'abbondanza delle tue grazie la preghiera dell'offertorio accetto padre la nostra umile offerta nel glorioso ricordo della Vergine Madre e con la forza operante del tuo spirito trasformala nel sacrificio che lava i peccati del mondo perché il memoriale istituito dal Cristo per l'umana riconciliazione sia per tutti le fonte perenne di ogni grazia e benedizione spettacolo anche qui e si ricorda nuovamente la Vergine Madre e si ricorda anche che il momento cioè cosa viene trasformato nel pane nel vino eucaristici la nostra umile offerta quindi la Madonna che interviene anche cioè nel presentare la nostra umile offerta al Signore perché ci trasformi in Lui così come pane vengono trasformati nel suo corpo e nel suo sangue prima dell'orazione dopo la comunione è bene vedere l'antifono la comunione lo spirito e la sposa dicono vieni e chi ascolta ripeta viene chi ha sete venga chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita abbiamo visto che la Madonna è l'acquedotto e le acque che porta sono le acque della vita sono le grazie è lo spirito santo e il costo che si paga presso la Madonna è zero gratis e l'orazione dopo la comunione dice oh padre che ci hai ristorati alle sorgenti della vita dove sta la sorgente della vita in Gesù nell'Eucaristia concede a noi per la grazia di questo sacramento con il materno aiuto di Maria di aderire intimamente a Cristo mediatore attenzione che è bello per cooperare sempre più al mistero della redenzione ricordiamo quando abbiamo studiato la corredenzione studiato abbiamo parlato della corredenzione abbiamo visto che tutti siamo dei piccoli corredentori la Madonna lo è sia come noi ma sia un titolo del tutto singolare e diverso da noi ecco ma il senso della partecipazione ai sacri misteri è riempirsi di quella pienezza di grazia di cui Maria Santissima è mediatrice e diventare nel nostro piccolo dei piccoli cristi cioè dei suoi piccoli collaboratori nell'opera e nel mistero della redenzione infine il prefazio chiudiamo in bellezza allora come sempre sapete che i prefazio vengono trotti con il Signore sia con voi è veramente cosa buona e giusta la solita formula diciamo di stile molto importante rendere grazie sempre in ogni luogo dovremmo ricordarcelo molto molto spesso che in ogni santa messa questa è l'introduzione di ogni prefazio ci fa comprendere quanto è importante dire grazie al Signore per esempio oggi è la Vigilia di Natale ma io penso che un bel grazie bisogna dirglielo al Signore perché è venuto sulla terra tra di noi perdonatemi questa digressione non facciamo come purtroppo sovente accade come il Papa ha detto mercoledì scorso durante l'udienza che facciamo festa senza festeggiato ma questo oggi è una cosa molto molto diffusa facciamo festa senza festeggiato e senza manco dirgli grazie al Signore per questo dono immenso che ci ha dato che Dio sia fatto uomo ed è nato tra noi chiusa la parentesi vero Dio è vero uomo prosegue il prefazio egli è mediatore è l'unico mediatore fra te e gli uomini abbiamo già parlato a suo tempo sempre vivo a intercedere nel nostro favore quando la Chiesa dice l'unico non vuol dire che esclude che ce ne siano altri ma è il primo quello che è assolutamente indispensabile perché senza di lui tutti gli altri non avrebbero ragione di essere quindi è quello che è indispensabile quello che è più importante è quello che è la fonte di subordinata efficacia di tutti i mediatori inferiori compresi i preti i vescovi il papa e compresa Maria stessa Maria Santissima stessa perché la mediatazione della Madonna trae efficacia da quella di Cristo e da questa subordinata nel mistero della tua benevolenza prosegue è voluto che Maria madre e socia di nuovo del Redentore ancora una volta sottolineata questa dimensione quindi il legame con la redenzione fa di Maria la socia di Gesù e quindi la mediatrice nel mistero della tua benevolenza è voluto che Maria madre e socia del Redentore continuasse nella Chiesa la sua missione materna e che che missione ha di intercessione e di perdono di protezione e di grazia di riconciliazione e di pace oh queste sono le belle opere le grandi opere della Madonna le grazie più grandi della Madonna Rudebach si è lamentata ha detto io voglio dare grandi grazie al Signore me ne chiedono poche quasi tutte legate alle povere esigenze di una vita temporale noi abbiamo bisogno di perdonare figlioli miei cari tutti e di essere perdonati perché senza perdono la nostra vita è un inferno dobbiamo stare in pace con tutti arriva Natale ma la pace non è una parolina perché noi il perdono lo troviamo e lo possiamo dare nel nome di Gesù lo troviamo dentro le nostre forze questa grazia si ottiene una Madonna di protezione noi abbiamo bisogno di essere veramente protetti non dai potenti della terra non dagli amici non dal politico influente d'accordo abbiamo bisogno di essere protetti dal male con la M maiuscola e questa protezione chi ce la dà? ce la dà il Signore chi ce la ottiene? Maria Santissima di protezione e di grazia noi abbiamo bisogno della grazia di Dio perché senza la grazia non possiamo fare nulla come ci ha detto Gesù di riconciliazione di riconciliazione riconciliazione universale e di pace la pace che bandisce ogni forma di violenza di visione chiacchiera separazione anche su questo il Papa ci ha fatto pregare per un mese e spero che tutti gli ascoltatori di Dio Buon Consiglio l'abbiano fatto la preghiera a San Michele Arcangelo e il Suttum Presidium per respingere l'opera devastante che il diavolo sta facendo sulla Chiesa non solo con le disgraziatissime avversità interne io invito ad ascoltare anche il discorso che Francesco ha fatto il Papa Francesco ha fatto il venerdì scorso un discorso molto forte alla Curia di Roma dove ha parlato degli scandali certamente impersonificati da Davide ma dove ha parlato anche dei problemi interni cioè delle divisioni interne che ci sono nella Chiesa dopo ci sono i vari giuda che pugnano alle spalle i propri vicini e seminano zizzania l'uno contro l'altro sono ferite dolorosissime entrambe però riconciliazione di pace un'anima mariana un'anima cristiana non può scegliere stili modi vie violente di nessun tipo non soltanto la violenza fisica ma neanche la violenza verbale l'insulto l'aggressione la maldicenza mettere in pubblica piazza le cose brutte insomma noi non abbiamo questo stile questo non è lo stile dei cristiani e non c'è nessun buon pretesto nessuna buona intenzione che giustifichi i stili di questo genere prosegue il prefazio questa provvidenza d'amore ha il suo provvidenza d'amore l'abbiamo visto nell'introduzione bellissimo questa provvidenza d'amore un'immagine proprio meravigliosa questa io non ci riesco a commentarla perché questo termine è incommentabile la madonna come espressione della provvidenza d'amore di dio è spettacolare ha il suo fondamento nell'unica medizione di cristo da cui trae la sua efficacia e il popolo fedele ricorre con fiducia alla vergine maria questa è l'esortazione rivolta a noi quando nei rischi e nelle ansie della vita noi abbiamo bisogno di una mamma di una madre e incessantemente la invoca madre di misericordia dispensatece di grazia ma se noi sapessimo quanto è buona la madonna e quanto ci gode nel farci contenti a canna la prima lettura Gesù ha detto guarda che non è ancora ora di fare miracoli d'accordo sapete che qualche autore un pochino ardito ha detto arditamente e a mio avviso ha detto il vero che lì la madonna santissima ha fatto anticipare l'ora di compiere i miracoli a Gesù per la sua sollecitudine materna per il suo desiderio che aveva di fare felici quegli sposi e Gesù dice vabbè dovrei fare il primo miracolo e lo faccio per te non lo dice Don Leonardo questa cosa qui insomma questa è una cosa che hanno detto persone ben più grandi di Don Leonardo è certamente una cosa un pochino ardita però la risposta di Gesù certo che c'è anche un'interpretazione mistica teologica la conosciamo non è ancora giunta la mia ora è l'ora di fare i miracoli o l'ora della passione quando uno entra poi nel campo della interpretazione appunto mistico-spirituale del miracolo dice aspetta mamma che quando morirò in croce la grazia tornerà quindi l'acqua della vita senza la grazia di Dio sarà trasformata in vita e questa è un'interpretazione plausibile perché il Vangelo di Giovanni è costruito intorno all'ora di Gesù che è appunto il momento della sua morte ma anche non è giunta l'ora di fare miracoli e per oggi Gesù l'ha anticipata ha dato la Madonna l'anticipo ha dato la primizia un miracolo non compiuto pubblicamente diciamo nell'esercizio maturante una privata festa di nozze per amore di Maria Santissima ma ci pare che se noi invochiamo questa mamma buonissima non ci otterrà almeno la consolazione la protezione la misericordia la grazia nei rischi e nelle ansie della vita San Bernardino in un'altra omelia ha detto guarda quando i marosi si fanno violenti quando le circostanze guarda la stella invoca Maria invoca Maria invoca Maria cioè non invocare la Madonna non farla esercitare quest'ufficio che lei gode nel farlo è una follia d'accordo cioè è un autoprivarci di una montagna di benefici di cose bellissime che la senza dubbio ci procurerà d'accordo quindi non soltanto come dire riempire le orecchie della Madonna con le nostre richieste ma dirci Madonnina mia pensaci tu tu lo sai di quali casi ho bisogno io mi trovo in questo momento difficile sto preoccupato ho questa ansia questa cosa mi affida le tue mani dammi ottienimi tu parlaci tu con Gesù e digli tu tutte quante le cose che tu stessa più e meglio di me sai di cui ho bisogno perché molte volte noi come dice San Paolo non sappiamo nemmeno che cosa sia conveniente domandare per questo che il Signore ci ha insegnato il Padre nostro perché lì se domandi quelle cose non ti sbagli ma noi non lo sappiamo in tante circostanze a noi ci sembrerebbe che sarebbe meglio una cosa piuttosto che un'altra ma lo sarà veramente questo lo sa soltanto nostro Signore e lo sarà Madonna che ben conosce la Divina Volontà essendo l'amica la familiare la intima di Dio con lei che più di ogni altro è entrata dentro il mistero della Santissima Trinità della vita divina l'ha conosciuto l'ha vissuto e quindi Dio per lei non ha segreti quindi lei sa che cosa è realmente bene e buono per noi suoi figli bene penso che non c'era non ci poteva essere modo migliore anche per darci e per dare insomma per augurare a tutti gli ascoltatori gli auspici e gli auguri appunto di un Santissimo Natale vissuto ecco con questo occhio particolare quindi contempliamo il bambino in braccio la Madonna ricordando che lei ci dà suo figlio e ci dà tutte le grazie necessarie per vivere in comunione con suo figlio per conoscere meglio suo figlio per essere protetti da suo figlio benedetti da suo figlio eccetera quindi un Santo Natale a tutti e ci risentiamo alla prossima puntata Ave Maria